Grande fratello. Alfonso Signorini divertito dal nuovo amore di Giuseppe Garibaldi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Giuseppe Garibaldi. Noto al grande pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande fratello, ha recentemente attirato l'attenzione dei media e dei fan per un motivo piuttosto insolito. Dopo aver lasciato il reality poco prima della finale, un evento che ha commosso i suoi compagni di avventura, è stata una particolare foto su Instagram a catturare l'interesse del pubblico. Contrariamente alle aspettative, l'immagine non ritrae Garibaldi con una persona speciale, ma piuttosto con una birra. Dimostrando un'affettuosità incondizionata per questa bevanda. Nella foto, l'ex concorrente del Grande fratello appare mentre tiene tra le braccia una bottiglia di birra. Con una rosa tra le labbra. In una posa che unisce umorismo e tenerezza. Nella vita reale, Garibaldi è un professionista nel settore della ristorazione. Lavorando sia come barman sia come bidello. La sua passione per la birra traspare chiaramente dalla foto. Rivelando un amore che va oltre il semplice consumo. Quasi un'affezione romantica. Questo episodio offre una visione diversa e giocosa di Garibaldi. Lontana dalle tensioni emotive vissute all'interno della casa del Grande fratello. La sua personalità poliedrica e la capacità di sorprendere emergono chiaramente. Mostrando interessi e passioni che superano le relazioni interpersonali sviluppate nel corso delle reality. Resta da vedere come Garibaldi integrerà queste diverse sfaccettature della sua vita nel suo cammino futuro. Sia in ambito professionale sia personale. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.